Siamo qui in piazza San Pietro, siamo qui per digiunare e pregare. Abbiamo appena concluso queste due ore di preghiera, eravamo 200-300 persone, adesso rimaniamo pochi qui in piazza, è stato un momento davvero straordinario, prima di tutto perché si tratta di sacerdoti, missionari, missionari e religiosi provenienti un po' da tutta Italia. Abbiamo voluto collocarci qui in San Pietro per richiamare come religiosi, come sacerdoti, come missionari l'importanza vitale dell'acqua. L'acqua è la madre, è la madre di tutta la vita. Se come Chiesa ci siamo contro l'aborto, contro l'eutanasia dobbiamo esserci con un sì forte per sorella acqua, meglio dico io per madre acqua, per la vita, tutta la vita che c'è su questo bellissimo pianeta nasce dall'acqua. Come abbiamo fatto noi in questo paese a permettere a un Parlamento di dichiarare l'acqua una merce, è una bestemmia per me. Ed ecco perché abbiamo voluto digiunare, pregare a due o tre giorni adesso dal referendum in cui chiediamo al popolo italiano quei due importanti sì. Il primo è l'acqua è un bene di non rilevanza economica. E la seconda domanda è la togliamo il profitto dall'acqua. A tutti e due chiediamo due sì e dobbiamo avere 25 milioni di italiani che vadano a dirlo questo. Si tratta di vita o di morte davvero? Difendiamo la madre, difendiamo l'acqua, si tratta di vita o di morte. Diamoci da fare perché vinca la vita. Se veniamo sconfitti sarà sconfitta dell'acqua che è la madre di tutta la vita. Sarà sconfitto il pianeta. Questo pianeta non ci sopporta più. Si tratta di vita o di morte. Diamoci da fare perché davvero vinca l'acqua. Sì. 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 Grazie a tutti.